ciao a tutti ragazzi sono mantis e oggi vi porto un bel gameplay di dead by daylight come killer ora vedrò quali fare purtroppo nei prossimi gameplay non ho messo la voce perché sono totalmente ammalato e mi sta facendo male boia la gola da fare solo l'introduzione quindi mi dispiace che è l'unica volta che ho avuto il tempo di registrare non posso manco mettere la voce ma ormai cosa ci volete fare a malattia di merda l'ho preso anche a me quindi volevo solo ringraziarvi per aver cliccato nel video lasciate un like se vi piace commento su cosa potrei migliorare e ci vediamo e vi lascio il video bella a 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 Sì, sì, sì. Ah! 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 Eeeh! 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 Eeeh.. No, 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 no. Oh! Oh, no, no. No, 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 no. No! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah! 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 Ah, ah, ah! 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 Grazie. 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 Grazie.